ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale benvenuti ragazzuoli questa è la risposta che attendevate tanto la risposta a questo video contest ovvero volevate tutti sapere chi era il vincitore che ho visto dai commenti cari su youtube diciamo che aspettavate tutti quanti questo contest e quindi nulla ragazzuoli adesso è arrivato il momento di decretare il vincitore di questo contest ho visto molti commenti che adesso andremo a vedere il primo commento non va bene perché comunque lui ha già vinto un account moddato poi ci sono commenti in risposta ad altri commenti di quelli non ne terrò conto terrò conto solamente dei commenti singoli o comunque dei nominativi singoli che non si ripeteranno quindi ragazzi io mi sembra di aver contato 30 30 nominativi levando cruz levando qualche qualcuno che ha commentato due volte insomma paganelli e compagnia insomma ci sono parecchi commenti quindi andiamo su random.org andiamo ad inserire il numero 30 ragazzuoli togliamo 100 non ci siete arrivati a 100 che delusione però va bene lo stesso e andiamo ad inserire il numero 30 e andiamo a vedere andiamo a vedere il sedicesimo ragazzi il sedicesimo commento chi sarà mai il sedicesimo andiamo a vedere chi è il sedicesimo commento contiamo insieme io sto contando ragazzuoli adesso andiamo a vedere chi è il sedicesimo andiamo a vedere ci sono come dicevo commenti extra ci sono persone doppie mi sembra sì 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 ci sono persone che hanno commentato due volte quindi siamo 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 a 13 con default andiamo avanti c'è cruz che non va contato perché era in un commento precedente e quindi siamo arrivati al sedicesimo ed a luigi il sedicesimo ed a vinto lui cj boga questo account modato che potrà richiedere su facebook potrà riscattare su facebook questo premio mi contatterà su facebook cercando maximiliano romano comunque il link del mio profilo facebook lo trovo in descrizione quindi niente di più semplice per tutti quelli che non hanno vinto questo contest settimanale la prossima settimana farò il contest un altro contest continuate a condividere i miei video chi non è iscritto e non si è iscritto questa volta si iscriva al canale per continuare a seguire i miei contenuti mettete mi piace i miei contenuti ragazzi perché non mi avete rotto le palline perché vedo sempre le visualizzazioni ma non vedo mai il mi piace e il mi piace per me sono condivisioni ragazzi quindi sono condivisioni e niente a questo punto ragazzi questo è il profilo youtube che ha vinto l'account modato luigi contattami parleremo su facebook di cosa vorrai su quest'account di quanti soldi vorrai di che rango vorrai fammi sapere e per tutti gli altri buona fortuna per il prossimo contest ragazzi un saluto da maxi al prossimo video ciao